Oddio Che cazzo è? Share Share this video con tutti i vostri amici Condividete Non so perchè un gioco si chiama Condividi Share o forse c'è la cantante Non si sa ragazzi Ciao a tutti su Gioca con Mike Ragazze ragazze di nuovo qua Gioco d'orrore Start Partiamo subito tanto che ce ne fotte Un gatto nero Volevo un gatto nero 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 Mi ha dato Un gatto bianco Ok Si è rotta la macchina Ah Ok ragazzi ho capito Buongiorno pizzaiolo Avete ordinato voi pizza? Ok Eh Aspetta ragazzi Chiudiamo la porta Questo quadro è un po' terrificante Sinceramente Non sono fan di questi Quella madonna Ragazzi 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 no Queste sono foto bruttissime Sembra quella di Attack on Titan Mangia un bello Oddio ragazzi Questo non posso farlo vedere Ragazzi mi vengono i brividi Come posso spiegare ragazzi? Sono delle foto bruttissime Come fanno fanno Mi fanno venire Oddio Ma sono foto vere ragazzi Questa è The Crook Questo è The Crook Che cazzo Eh però Eh la madonna Che sedere ragazzi Ma ugualmente veramente Sto foto Scusa ragazzi Non volevo ma le devo vedere tutte ragazzi Che cazzo No questi sono malati ragazzi Queste foto non mi piace Veramente sono foto Oddio Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Scusate questa qua proprio è Questo è il gatto di Alice nel mondo delle meraviglie Allora ragazzi Ho visto le foto che veramente Sono bruttissime Sinceramente Non vorrei continuare a giocare A giocare questo gioco ragazzi Queste sono foto Veramente Un paio di foto veramente Molto Molto Brutte ragazzi Oddio mi hanno fatto venire la pelle d'oca ragazzi Che ci abbiamo qua Chiuso Chiuso Naturalmente chiuso Ok Cazzo Un gattino Ciao 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 Oh cacchio Veramente? No Grazie a Dio Vengo a seguirti Vengo a seguirti Domingue Ah Ok Dillo prima Devo Capisco Capisco C'è il ramo Di un albero là Che blocca Eh Ah Non posso salire Ho capito E vai Tirato Accetta Perfetto ragazzi Fa un casino della madonna sto tipo Vai giù Cazzo 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 era? E' morto Gli lo posso tirare in testa sto cosa per essere sicuro che è morto Cazzo 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 Questo è un mercato che dovrei sicuramente prendere la batteria della macchina ragazzi Mi scommetto i coglioni che mi sono rassato ieri per andare in vacanza ragazzi Allora vediamo Allora vediamo Ecco lo sapevo ragazzi I hate the light Odio la luce E questo che è? La sanbefana di... Che aspetta un po' Ok non ho detto niente ragazzi guardate l'occhio destro sinistro dalla sua parte Watch the light 600 watt Ah ok Allora la torre da 600 watt di energia Una lampadina usa 100 watt Sono 11 lampadine 1100 watt se accendo tutte le lampadine in casa Lei odia la luce Eh boh Adesso sono accese tutte le luci Dovrebbe succedere qualcosa Allora vediamo Allora vediamo Allora vediamo Allora vediamo Allora vediamo Allora 5 Che cazzo è Che ragazzi Questo non me l'aspettavo proprio Ok Inizia a diventare importante Beh ragazzi Diciamo che questo è stato un piccolo video Molto molto corto Quindi credo che la finiamo qua Perché non succede più niente Sono dieci minuti che giro qua nella casa ragazzi Dovrei vedere cosa devo fare Ma questo lo scopriremo nel prossimo video ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Non è successo molto Perché siamo all'inizio del gioco Ma come ho sentito dire Diventerà molto più pauroso ragazzi Quindi mettete un bel like su questo video ragazzi Iscrivetevi Passate naturalmente dal mio video precedente Dove faccio le sponsorizzazioni ragazzi E mettete come comment Sponsorizza Mike dopo esservi iscritti E messo un like su quel video ragazzi Farò come detto Un video a sponsorizzazione ragazzi Spero che vi sia piaciuto Sono due settimane in vacanze Cerco di caricare video Li registro oggi E ricarico nei prossimi giorni Ma ne saranno solo due o tre Quindi ragazzi Ci vediamo fra due settimane Il vostro caro Gioco con Mike Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti